Il secondo quaderno di Cultura e Territori è edito da Disvelare Edizioni presentato dalla Cigella d'Avellino ha dedicato un focus alla fabbrica della morte di Elio Graziano. 35 le vittime di patologie tumorali collegate alla prolungata esposizione all'amianto e oltre 230 ex operai contaminati da patologie asbesto correlate. Tonino Notaro, direttore editoriale dei quaderni, ha sottolineato le connivenze che, sotto gli occhi di tutti, hanno reso possibile una delle pagine più nere della storia industriale italiana. Da qui la proposta, riaprire in provincia di Avellino una grande vertenza ambientale e garantire agli ex lavoratori e alle famiglie diritti e la dignità che tuttora sono negati. Il segretario generale della CGL, Franco Fiordellisi, intervenuto insieme a Nicola Brate, Ranieri Popoli e Franco Mazza ha ribadito il sostegno in prima linea del sindacato alla lotta per affermare la cultura del benessere e contrastare le disuguaglianze sociali. Le politiche pubbliche, ha sostenuto Fiordellisi, devono guidare con coerenza e modo integrato i nuovi principi introdotti in costituzione del valore ambientale.